benvenuti in questo nuovo video un video di spiegazione perché non stanno uscendo più i video allora l'esperimento audio fatto da voi si è rilevato un vero disastro nel senso che facciamo un passo indietro i primi audio c'erano le guide negli audio fatti da voi perché comunque le persone avevano si erano attenute a quello che avevo detto io la seconda parte degli audio fatti da voi è successo l'impensabile nel senso che è successo che c'è stata leggerezza di fatti io mi sono un po lamentato in un video precedente di determinate cose che mi sono accorto fattori che mi sono accorto la pubblicazione del mio scritto subito dopo dieci cinque dieci minuti c'era già un audio due audio insomma erano otto nove adesso non mi ricordo e praticamente cos'è successo in questi audio già dall'inizio io mi ero accorto che praticamente c'era difficoltà nel sentirli ma non perché erano fatti male sì anche un po fatti male mi provocavano disagio e quindi non riuscivo a concentrarmi eccetera eccetera che cosa è successo in questi audio almeno uno o due di questi audio è successo che chi ha fatto questo audio aveva vicino entità negative anime basse ma non solo aveva vicino anche angeli caduti e angeli caduti sono demoni se non stiamo qui a dire che c'è gente che non ci crede eccetera eccetera va bene esperienza personale vi posso dire che esistono il problema principale è stato che che cosa fa un audio in questo caso in questo caso quest'audio mandato da me era tipo un ponte energetico tra voi la vostra situazione ambientale ma non terrena ma oltraterrena si sono riversati in questi audio anime basse e angeli caduti come dicevo prima e quindi mi sono ritrovato in casa anni di caduti e anime basse magari anche provenienti da un vostro caro che in difficoltà che magari è stato diciamo reggirato in qualche maniera perché comunque capita anche questo adesso non so quali siano la spiegazione di questa di questa cosa nel senso di come mai mi sono ritrovato la casa infestata perché comunque il problema principale quando si fanno queste cose un conto se sei a casa da solo per i fatti tuoi sai che comunque può esserci una problematica però quando ha intorno una persona due persone tre persone nel senso che io ho una mamma chi ha un papà chi ha una moglie chi ha una compagna chi peggio ancora chi fa queste cose ai figli che sono adolescenti o sono anche piccoli tutta la cosa tutta la questione si amplifica diventa tutto molto più problematico e la gente non se ne accorge ma come mai mi sono accorto di questa infestazione io ogni primavera comunque dormo poco ma già di mio io dormo poco e quindi all'inizio io non ci ho dato molto caso che poi dopo piano piano ci sono arrivati tutti i segni dell'infestazione nel senso che dormi poco nervoso incominci a pensare in maniera negativa incominci a pensare che gli altri ti pensano in maniera negativa eccetera eccetera quindi è stato sono stati sia a livello fisico che a livello psichico veri proprio attacchi molto forti nel senso ero stanco quando andavo lavoro ero stanco ma anche sul lavoro dopo 30 e passa anni 32 33 anni di lavoro non ho mai visto cose di questo genere nel senso c'era il lavoro ma mancava il materiale è arrivato il materiale era arrivato sbagliato ho perso qualche giorno di lavoro anche c'è stata una settimana fulcro di incredibile nel senso poi mi sono anche fatto male al lavoro un piccolo taglio sulla testa che in 32 33 anni di lavoro non mi è mai successo cioè sono successe tantissime cose quando metti insieme tutte queste cose incomincio a capire a dire c'è qualcosa che non va ecco poi soprattutto quello che ha fatto scatenare tutto il campanello d'allarme è stata la mia grande amica poi faccio i ringraziamenti a fine video che mi ha visto un po ma lei comunque queste queste cose le sa bene nel senso sa quali sono i problemi quali sono gli effetti quali sono ha detto ad amato visto male in quel video lì io faccio un controllo e per fortuna che comunque c'è questa persona qui faccio un controllo e io lì e ero sicuro che comunque trovava qualcosa perché era una situazione ambientale molto strana il responso è stato ad amore c'è la casa è festata nel senso ci sono tante anime negative ma soprattutto ci sono angeli caduti che poi non è che stanno lì tranquilli e si fanno i fatti suoi no hanno aperto portali altra dimensione per far arrivare altra altre anime altre altre altri agili caduti quindi è stata una è stata una successione di eventi e comunque loro non è che vengono in casa e dicono che bello stare in questa casa no che comunque ci sono disagi perché comunque si sentiva respiravo anche aria pesante in casa anche mia mamma non stava molto bene anch'io non stavo molto bene nel senso ci sono ci sono proprio veramente delle situazioni ambientali non belle ma anche sogni strani che comunque non ti ricordi o fa in modo di non ricordarli o magari fanno in modo di non ricordarli per continuare il disagio che comunque vogliono creare ma è della favola comunque la mia amica è intervenuta ci ha messo tre o quattro giorni insomma non è che schiacchi le dita e le cose si mettono a posto ci ha messo tre o quattro giorni per cercare di sistemare prima di tutto le anime che avevo in casa andare via gli angeli caduti e chiudere i portali che si erano aperti in casa mia l'esperimento audio fatti da voi è stato un disastro è stato un disastro perché questa è colpa mia non sto dando la colpa a chi ha fatto gli audio anche se un minimo ce l'ha nel senso io dovevo insistere per cercare di far capire alla gente che non faceva un audio o all'amico ma faceva un audio per una dimensione ultraterrena nel senso queste cose sono particolari sono io ho sbagliato perché cercavo un sistema di comunicazione così io facevo la metafonia e voi facevate gli audio però niente è andato tutto a male nel senso non si può fare è sbagliare umano perseverare da capri quindi non ci saranno più audio fatti da voi perché anche gli audio che ho ricevuto ho dovuto cancellarli ho dovuto cancellare i messaggi ho dovuto cancellare la lista delle persone perché avevano tutta un'impronta energetica avevano un'impronta energetica che portavano malessere nella mia casa nel mio status di persona quindi tutti gli audio sono stati cancellati e quindi non usciranno più nessun tipo di audio fatto da voi adesso vi prendo una pausa di metafonia nel senso non farò metafonia perché non mi interessa farla sinceramente adesso come adesso per ricevere un grazie o un cuoricino o un mi piace assolutamente non mi interessa ci sarebbero quattro persone non si vede che gesticolo ci sono quattro persone che attendono una metafonia che sono state scelte e metterò sotto nella descrizione chi è stato scelto ma ovviamente ci vorrà del tempo quindi non mi scrivete dire quando è che è pronta la mia sessione assolutamente no ci vorrà un mese due mesi tre mesi quattro mesi non mi interessa chiusi questi quattro quattro persone che dovrò fare cambierò il sistema di sia prenotazione sia del tutto nel senso non penso di fare mai più sessioni private penso che comunque sia più giusto e doveroso fare metafonia ma fare in modo che le guide abbiano la possibilità di scegliere chi portarmi in casa mia e chi no ovvero farò una sessione libera chiedendo le guide di portare anime che hanno bisogno di parlare mandare un messaggio e di lasciare quel messaggio magari dicendo il nome e anche un qualcosa che fa capire al proprio caro che è il suo il suo caro ecco insomma perché comunque anche di sessioni private ne ho svolte tantissime non era mai successo una cosa di questo genere perché comunque c'erano le guide in questi audio ho riflettuto molto in questi audio non c'erano le guide ma perché non c'erano le guide perché comunque dovevano farmi capire che questa cosa era sbagliata è l'unica soluzione di far capire che questa cosa era sbagliata e soprattutto ha anche a chi la fa perché io l'ho visto fare l'avevo fatto esperimenti e comunque avevo capito che sia con la voce che con Musiche non solo si potevano parlare potevano interagire altre persone fanno queste tipologie di video audio fatti da voi e non è la strada corretta è la strada sbagliata perché è la strada più giusta per infestarvi la casa incasirarvi la vita con angeli caduti con anime basse e quindi non sa da fare però penso che chi di dovere mi dirà eh ma io ho la guida io ho Sant'Erasmo io ho San Pietro io so di qua io so di là io prego io faccio io vado a messa assolutamente non è così nel senso è diversa la situazione perché adesso guardando quello che è successo a me si capiscono tante cose perché io ho visto anche altre persone che fanno metafonia io la guida io di qua io di là e poi si sono incasinati la vita come mi si è incasinata a me e quindi il problema principale qual è? è che non bisogna farlo nel senso un conto è la metafonia lì sì che ci sono le guide da quanto adesso ho capito vabbè avevo capito prima ma questa è una certezza assoluta ci sono le guide che portano i vostri cavi e poi si li portano via in qualsiasi dimensione solo se sono nella luce se sono nel basso astrale se sono ancora più in basso eccetera eccetera non rimangono in casa difatti in casa mia non c'è mai stato un'anima portata cioè lasciata dalle mie guide e portata dalle mie guide capito? avete capito? nel senso che io quando chiamavo una determinata anima arrivava con la guida o con il suo angelo custode che comunque è una guida ma poi alla fine venivano portati via non venivano lasciati qui invece quello che è successo con gli audio fatti da voi quindi quelli che sono arrivati da soli alla fine e sono rimasti finché non sono stati mandati via quindi adesso per concludere questo video che non voglio che diventa lunghissimo parto con i ringraziamenti ma è una lista così a caso nel senso innanzitutto ringrazio Papa Dio che ha permesso determinate cose e ha permesso determinati eventi e voi dite eh sì stai ringraziando Papa Dio perché avevi la casa infestata sì perché era l'unico modo di farmi capire che gli audio fatti da voi non andavano bene non si poteva andare avanti a fare questa questa soluzione quindi la soluzione più normale era fare metafonia con le guide eccetera eccetera poi va bene ringrazio comunque Papa Dio perché mi ha mandato sulla strada una persona straordinaria che è la mia cara amica che ha risolto la situazione e ha tolto le castagne dal fuoco e poi vabbè lei ha fatto un lavoro incredibile che dire non ho parole e poi ringrazio Maddalena pregato per me che commenta sempre i miei video una grande amica poi adesso farò un giro di amicizie nel senso che ringrazio anche l'amico della mia cara amica che ha fatto una determinata cosa non sto qui a spiegare perché non vi interessa e poi ringrazio la cara amica della mia amica che non la conosco vede i miei video ma ha pregato per me e qui posso dire che ho vinto il superenalotto nel senso che non è questione di soldi è questione di di amore nel senso una persona che non ti conosce ti vede solo nel video e prega per te cioè tanto di cappello sciapone nel senso hai tanto amore da dare sei una persona veramente completa spiritualmente anche completa pensateci un secondo nel senso che perché pregare per una persona che non conosci o magari che hai visto solo in video o magari che hai sentito che la tua amica ne parlava insomma che dire no cioè avrei tante altre cose da dire ma per il momento mi fermo qui nel senso che è inutile far capire una determinata cosa a una persona o delle persone che comunque non potrebbero capire il disagio che ho ricevuto che poi tra l'altro non è ripeto non è colpa vostra ma è colpa mia perché comunque avevo messo in conto ma è una piccola percentuale avevo messo in conto che poteva capitare qualcosa di strano infatti è capitato e niente che dire posso solo pensare che sono una persona fortunata perché comunque ho delle persone che mi amano veramente altre persone no nel senso che in questo periodo ormai è quasi un mese che non esce un video hanno avuto la sfacciataggine di dire ma il mio audio che fine ha fatto no non è che ah non vedo non vedo video non vedo che sono usciti audio non vedo non posso non vedo niente come stai sei vivo non sei vivo e quindi e qui comunque scatta il pensiero di dire che me ne frega me di farvi le sessioni a voi che siano private o no fare metafonia per voi poi non è che voglio qualcosa in cambio ma la dovuta attenzione educazione non sarebbe cattiva solo due o tre persone comunque hanno chiesto innanzitutto prima come stai e questo fa molto piacere nel senso è questo che voglio farvi capire prima dovrebbero arrivare le necessità degli altri e poi le vostre come sempre stato come sono sempre stato io prima le vostre necessità i vostri cari di farvi mandare i messaggi da loro e poi le mie necessità che comunque le mie necessità non ci sono mai state nel senso in otto anni ho fatto tantissimi contatti tantissimi video anche qua nel canale youtube ci sono tantissimi video ne mancano tantissimi perché almeno 120 altri video l'avevo fatti su un altro canale che erano privati con varie dirette eccetera eccetera e sono tantissimi i contatti ricevuti i messaggi ricevuti e le anime ricevute e persone accontentate di che cosa mi è rimasto nulla nel senso non ci sono persone ogni tanto ti hanno scritto per salutarti anche un buongiorno una buona domenica sono sparite tutte e quindi qui stai a pensare e dire hai fatto molto per loro e loro non hanno fatto per niente per te ma non è questione di ricevere qualcosa ecco uno la cosa la fa la fa perché la vuole fare perché si sente di farla applica anche strumentazioni applica anche sistemi per fare per fare video eccetera 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 insomma non sto qui a dilungarvi come altre persone che comunque facevano facevano contatti dal giorno all'altro sono sparite sono sparite dai social non hanno pubblicato mai niente eccetera eccetera senza di dare una dovuta spiegazione all'inter collocutore alle persone e niente finisco qua col video dicendo che non so quando farò le sessioni che dovrò fare che sono quattro che anche qui sono stato stupido nel pensare che le persone potevano fare un qualcosa nel senso che perché anche già con la prenotazione di questi quattro nominativi è successo un parapiglia nel senso che adesso vi faccio capire che cosa sto dicendo nel senso era molto semplice la mia cosa è molto semplice non è da un giorno che lo faccio una persona andava sul sito internet scriveva il nome cognome suo del suo caro e la domanda che vuole porre me ne sono arrivate forse una trentina di richieste nell'ultimo video e qualcuno nella pagina o altre parti nel gruppo io solo visto due richieste c'ero solo io e un'altra persona no se tu hai fatto l'azione di andare sul sito internet compilare un modulo che mi manda automaticamente le mail con il tuo modulo il tuo modulo scritto nome cognome e la descrizione cioè la domanda che volevi fare al tuo caro tu che ne sai quante persone mi hanno scritto e già lì capisci la pochezza intellettuale di alcune persone che non riescono a capire o non sono attente come gente che non ha visto il video degli audio fatti da voi ha mandato l'audio ah si ha prenotazione via mando l'audio e via cioè mando la prenotazione e audio e via vabbè è così forse c'è stata troppa leggerezza nei micro fronti nel nel farvi capire che comunque queste tematiche non sono non sono per tutti nel senso non è facile fare determinate cose e avete visto bene nel senso in questo mio video ho spiegato non in maniera dettagliata che cosa ha comportato avere dei problemi diciamo paranormali nel senso non era mai successo ma doveva capitare è giusto che è capitato per capire tante cose perché l'errore ci sta lo sbagliare ci sta è umano è nella vita cioè non siamo esseri superiori e questa è la dimostrazione del fatto che non siamo veramente esseri superiori ma siamo esseri inferiori in confronto all'altra parte all'altra dimensione in altre altre parti oltraterrene altri livelli oltraterreni altri universi eccetera eccetera oltraterre 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 ok